Sarà il video di questa performance Potete vedere la mia faccia senza baffi dei capelli corti con una faccia di tre anni fa e lo stesso pezzo fatto male e poi la mia faccia di oggi è baffi capelli lunghi e il pezzo speriamo ha fatto meglio Questo è ieri e il pezzo fa così 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 Il pezzo fa così